Ciao a tutti, sono Madirco Le Dany e questa è la bici che MMR Bikes ha realizzato per me per l'Olimpia di Tokyo 2020. Montata con le Prototype World Cup, le gomme Hutchinson Skeleton, in questo caso da 2.30, che sicuramente userò in gara a Tokyo. Il gruppo è lo SRAM AXS, elettronico, con registro telescopico elettronico, con un upgrade al passantino wireless, che riduce un po' il peso ed è molto più rapido. La bici è montata con forcelle e mono da 110 di RockShock e la nuova Seed. Ho deciso di correre questa da 35 con una bici più performante in discesa e più lineare nello sponnesso. Come sella utilizzo la Flight 235 di sella Italia. La bici è la nuova Kenta 2021, ancora a prototipo. Mi sveleranno presto le specialità o se ci sarà qualche modifica. Per il momento questa è la mia bici da battaglia. Ringrazio il team per questa strada bici tagliata sia in omaggio al Giappone sia all'Italia, alla mia nazionale. Spero di ben figurare con questi colori e vi ringrazio per questo bellissimo regalo.